cari fratelli e sorelle osbechi vi auguro un buon ramadana santo profigo benedetto ramadana a voi tutti alle vostre alle vostre famiglie la vostra terra a tutta la comunità islamica io sono italiano in italia il ramadana si passa nell'attesa delle giornate si passano nell'attesa dell'iftar di l'iftare spesso è occasione di stare insieme in moschea poi per fare pure anche il tarari è un'occasione per per stare insieme per sentire un po l'atmosfera della giamà e anche questo è una cosa bella perché durante l'anno ci sono poche occasioni per stare insieme io vi auguro a tutti voi di essere ancora più uniti ancora più vicendevolmente uno deve essere al servizio uno dell'altro e di amarvi per l'amore di allai ramazan mubarek bolsu aklaibaret siamo rica io mi chiamo abdulrahman islam sono italiano sono diventato musulmano nel 1976 sono poi emigrato in turchia nel 1994 sono sposato due civili e lavoro in una ma anche nel mio paese in italia e in europa grazie 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 grazie